La tua nuova auto con canone tutto incluso e senza più pensieri? È possibile con Tomasi Plus, la formula d'acquisto facile e flessibile che ti consente di godere del tuo nuovo veicolo in tutta serenità. E dopo 4 anni puoi cambiare auto. Scopri come, vieni a trovarci o visita il sito tomasiauto.com